Mister Paci, Forlì che ha reatto abbastanza bene alla Cesena nonostante il 2-0 subito in campo. Il secondo tempo siamo andati un po' meglio, il primo tempo abbiamo sofferto un po' il loro modulo e il fatto che noi siamo partiti da una settimana e abbiamo sentito i carichi di lavoro, era inevitabile, loro sono già pronti, domenica giocano in Coppa Italia, quindi oltre alla categoria di differenza c'era anche la condizione fisica che in questo momento noi non abbiamo. Tante pedine nuove, come unirle nel suo credo di gioco per il calcio? La squadra è totalmente nuova, abbiamo bisogno di tempo, l'idea è chiara, i nostri principi di gioco sono chiari, oggi non siamo riusciti ad esprimerli perché davanti abbiamo una squadra più avanti di noi. Quale sarà l'obiettivo stagionale indipendentemente dal girone in cui finirete? Noi dobbiamo fare una stagione tranquilla, meglio dell'anno scorso, la salvezza è prima di tutti, poi c'è tempo durante il campionato per capire di che passa saremo fatti, però la salvezza e fare un campionato tranquillo è il nostro obiettivo principale.